amici di news formula 1 buongiorno buonasera secondo di quando ci state ascoltando e benvenuti ad una nuova puntata del tgf1 la rubrica di news formula 1 che si occupa di seguire le notizie nel momento in cui avvengono si è concluso ieri il gp di miami con la vittoria la prima di lando norris su mclaren e di conseguenza le notizie avverteranno principalmente su quello che è successo in quella sede tra l'altro di notizie ce ne sono un po come sempre prima di partire vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando sulla campanella per essere sempre informati sulle nostre iniziative ripeto sempre a voi non fa nessuna differenza per noi invece parecchia e partiamo subito con un piatto forte quello che davvero interessa i ferroristi e lo troviamo su racing news 365 l'incidente durante la battaglia per il quarto posto fra carlos sainz e oscar piastri con lo spagnolo ruvido e un po lungo alla curva 17 del circuito a colpire con la posteriore destra l'alettone anteriore della mclare completandosi il sorpasso ma rovinando di fatto la gara all'australiano personalmente ho pareri un po ambivalenti sulla manovra da una parte penso che sainz abbia un po esagerato dall'altra che la battaglia in forma uno possa e debba anche essere fatta di manovre al limite e che le sportellate non debbano essere mai uno scandalo fanno parte di questo sport rimane però il fatto che mi aspettavo un po come tutti che la fia avrebbe giudicato sulla base del risultato della manovra più che sulla manovra in se stessa cosa che secondo regolamenti i commissari non dovrebbero mai fare ma che di fatto avviene sempre le motivazioni della fia però stavolta ci hanno un po sorpreso secondo i commissari sainz durante il tentativo di sorpasso ha perso il posteriore della vettura e questo è vero è stato questo il motivo della collisione che quindi diventa per la maggior parte una sua responsabilità secondo referto vengono quindi combinati a sainz cinque secondi un punto di penalità sulla patente in luogo dei 10 secondi più due punti che sarebbero previsti dal regolamento quindi la fia giustifica questo trattamento con le attenuanti generiche della situazione quindi anche in questo caso il solito papocchio della fia che non decide non sa cosa decidere non riesce a tenere un metro di giudizio univo insomma tutte cose che già sappiamo in mancanza di ricorsi sainz perde quindi la quarta posizione in favore di perez rimanendo di poco davanti ad hamilton nella classifica del gp venendo a una luota un attimo più lieta c'è l'intervista di lwos a leclerc secondo il quale la reazione ferrari dopo un paio di weekend sotto tono rispetto alle aspettative non si farà attendere le parole del monegasco come ho detto altre volte penso che la stagione di tutti dipende dalla qualità degli aggiornamenti noi abbiamo i nostri in previsione fra poco e questo definirà il resto della nostra campagna 2024 quindi un altro pezzo da 90 calato sugli aggiornamenti dei quali adesso ci si attende moltissimo non rimane che attendere imola e quello che succederà e passiamo poi da racing news 365 ancora che raccoglie una indiscrezione da christian horner secondo il quale la rb20 di verstappen avrebbe subito un danno al fondo in occasione del lieve contatto con un birillo il segnaposto all'interno della chicane in curva 15 che ha causato poi la prima virtual safety car sempre secondo l'intervista si farebbe riferimento da alcune non ben precisate fonti tecniche all'interno di red bull che avrebbero quantificato in circa due decimi e mezzo la perdita di prestazioni sul giro della vettura numero 1 la cosa poi sommata alla safety car causata dal solito magnusen secondo horner ha contribuito in maniera sostanziale alla perdita del primo posto da parte di verstappen da questo vorrei anche sottolineare come horner stia parlando di formula 1 e che nessuno senta più la necessità di chiedergli dello scandalo che potrebbe averlo coinvolto e prima che ci siano commenti a riguardo dobbiamo per forza ancora utilizzare il condizionale visto che per ora la verità documentale è ancora quella della relazione indipendente presentata da red bull qualche mese fa e che non ci sono stati passaggi dalla giustizia tradizionale nel frattempo mentre tutto questo accade e horner in qualche modo consolida il suo potere red bull perde i pezzi con l'addio di adrian we che non ha portato molta fortuna alla sua ultima presenza in circuito per la red bull rimanendo su racing news 365 ricordate la faccia sorpresa di verstappen nel retropodio quando ha visto a schermo la manovra assassina di perez in partenza ecco in una delle interviste post gara verstappen ha commentato dicendo che pensa che la manovra abbia sfiorato e colpito il suo diffusore marginalmente per carità causando qualche danno anche a quella zona della sua vettura contando che prima di aver visto il filmato non si era reso conto dell'accaduto direi proprio che i problemi in casa red bull si vedono anche fra i piloti che proprio non si amano per nulla soprattutto verstappen non ama perez per nulla continua verstappen sulla gara poi dicendo che senza la safety car probabilmente sarebbe stata una lotta all'ultimo giro considerando che dopo il pit aveva circa sette secondi di vantaggio su norris che sono stati poi quelli recuperati dal pilota inglese vincitore della gara un'analisi interessante questa considerando che rispetto a norris verstappen ammette l'inferiorità dal momento che pensava comunque che sarebbe stato recuperato e preso tuttavia a dimostrazione del fatto che con i se non si fa la storia è verstappen stesso ad aver causato l'iliarità generale durante le interviste parlando proprio di quest'ultimo punto dicendo pressa poco sempre se se e ancora con i se se mia madre avrebbe avuto le palle sarebbe stato mio padre e io ve lo dico verstappen oltre a non essere un ipocrita come qualcun altro o in mente una persona in particolare non è esattamente così odioso come si dipinge vero che il nemico ma probabilmente è solo normalmente antipatico ed è stato anche educato in maniera particolare dal padre e veniamo al vincitore che su crash punto net rivela il ruolo fondamentale di donald trump nella vittoria racconta norris che l'ex presidente degli stati uniti gli avrebbe detto di essere stato il suo porta fortuna trump era in un certo senso ospite della mclaren in occasione del primo gp interamericana e anche se in genere si cerca di rimanere fuori dalla politica dobbiamo pur ricordare che zach brown ceo di mclare è americano e che più di un invito sia stata mclaren ad aver ricevuto dall'entourage di trump la richiesta di poter visitare il garage della scuderia inglese da parte dell'ex presidente e probabile nuovo presidente sul mirror apprendiamo poi di altre polemiche da parte di persone che evidentemente non hanno molto da fare che non lavorano sul fatto che norris si sia detto in seguito onorato della visita e dei complimenti di trump mi domando anche cosa doveva dire forse che preferiva mao zetung xi jinping non riesco a capire cosa ci si aspettasse che poteva dire non riesce in tema visita di trump ma va bene altra notizia importantissima che arriva dal mail online sempre sul vincitore l'attuale ragazza di norris la modella margarita corseiro non ha commentato sui social la vittoria del suo amato al gp di miami e si suppone questo sia per mantenere la relazione privata un po fuori dei riflettori altre notizie invece la davano presente al penultimo gp quello cinese perché diamo questa notizia ovviamente semplice perché guardando le foto della ragazza pensiamo che norris avesse comunque vinto tutti i gran premi anche prima di scendere in pista quindi so che è vietato essere etero nel 2024 ma insomma passatemi almeno questo e passiamo a fi con una digressione su mercedes e george russell l'inglese ormai è abituato alla mancanza di passo della sua mercedes ma risulta nell'intervista molto infastidito attenzione a questo punto dal fatto che la w15 affidata al compagno di squadra hamilton abbia invece avuto un gran premio tutto sommato positivo non si spiega infatti russell la differenza di prestazioni e chiede alla squadra di esaminare nel dettaglio cosa sia successo sulla sua vettura rispetto a quella del compagno anche in questo caso si vede che la stagione di russell è appesa a un filo e quel filo è la possibilità di battere hamilton entro fine stagione ed io sono assolutamente d'accordo con lui non c'è nessun'altra cosa che importi dal suo punto di vista soprattutto considerando che è la sua ultima possibilità per farlo a parità di condizioni bene le notizie per oggi sono finite io vi ricordo ancora di iscrivervi al canale cliccando sulla campanella per essere sempre informati sulle nostre iniziative una bella spolliciata per farci capire se questo video vi è piaciuto o vi è interessato commenti cerchiamo sempre di rispondere quando diciamo le cose vanno male e anche quando le cose sono un pochino più leggere come in questo periodo magari anche con gli argomenti che preferireste vedere trattati e vi ricordo che se non ci seguirete la prossima volta che sarete fermi a un semaforo dietro di voi ci saranno magnusen e perez ed entrambi avranno molta molta fretta grazie a tutti